salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sapete io all'inizio del mese io sempre mi devo fare dei acquisti devo comprare dei film alcuni pensano che io aspetto che mi mandano i film gratis ma quelli non sanno un cazzo non seguono il canale e seguono delle merde che forse si vedono le cose in streaming illegalmente io invece già ho iniziato il mese comprando dei film su da gamestop in offerta ho preso la serie della sofas e anche l'edizione limitata di talk to me e oggi siamo qui con questo pack qua di amazon questo serve per la copertina mi sono voluto recuperare un bel po di film anni 80 lo sapete che io sono goloso mi piacciono i film di una volta che vi faccio vedere uno alla volta dovete attendere un frattempo mi disinfetto ci proviamo a disinfettarci le mani che è importante già io vi invito a lasciare like a scrivere un commentino carino io ci sto guardando il video sto osservando mentre ti disinfetti le tue mani e ti prepari all'unboxing del pacco qua c'è un brutto tempo non so da voi fatemi sapere com'è il tempo da voi però bel venticello ci voleva a me non faccio qualche video fuori mi faccio anche vedere ultimamente mi sono fatto vedere è stato un salvuccio dopo un bel po di tempo anzi vi invito a guardare i video che ho fatto con il caro salvuccio che se andate a vedere è il wolverine non vi dico cosa ne vengo allora allora ed eccoli qui e partiamo dal primo e partiamo dal primo ovvero chi è entrato nella mia casa l'ho preso in offerta vi giuro l'ho visto in offerta ho detto cazzo me lo devo prendere era tipo 10 euro e 90 ogni volta stava a 16 e 90 è un prezzo anche un po più altini ho detto minchia se sta a sto prezzo ma che fa come direbbe il nostro caro piccio gamer 89 che fa te ne privi non penso tutti sono dbd come ho detto se sono costretto compro i dbd perdonatemi se non vi leggo la trama ma ho avuto qualche problemino nel senso che mi sono spoilerato certe volte anche l'intera trama dietro quindi se vi va mettete pausa ve lo leggete voi non vi seccate ragazzi che io non l'ho visto il film non me lo voglio rovinare più posso dire che film del 1987 dura 80 minuti circa non so perché ci hanno dovuto scrivere così lo psycho horror d'atmosfera che cita nightmare portando in scena alcatraz e il suo terrificante isolamento restaurato in alta definizione con nicolas cellozzi tom rail reilly donna denton hope mary carlon carlonton tammy hyler steven bryan smith ora qualcuno si lamenterà del mio accento molto english ty miller tony bazio musica dei dei devo devo cosa diretto da dimitri logodetis buh l'avete visto andiamo a sapere qua sotto nei commenti e ora passiamo all'altro film mi raccomando fatemi sapere di tutto non vi dovete preoccupare commentate a me fa solo che piacere se parlate qua sotto nei commenti non è che m'offendo ora passiamo all'altro film passiamo all'altro film passiamo all'altro film passiamo all'altro film video club collection ce l'ho in collezione ho fatto pure la battuta alcuni ancora devo ancora vederli questo non so neanche cosa sia non l'ho mai visto nella mia vita l'ho pagato 5 euro ho detto boh pigiamolo dalla thunder video shock proof boh vi metto qua la trama no so mi ispirava sta cosa degli alieni anche se non ci vado matto per gli alieni ma ho detto ma per 5 euro ma che fa te ne privi non penso proprio quindi questo qua è visi tans che non c'è neanche se è stato 2k film scan negativo originale usa 1986 89 minuti colore formato 16 noni e meno male io rendi rompo il cazzo ragazzi 4 terzi anche se non mi da tanto passino nel senso nel proiettore però mi sta un po' strettino il 4 terzi mi sta sui coglioni parliamo ora dell'ultimo film io ho fatto vedere questo ho fatto vedere questo e passiamo al terzo film ovvero la camera della tortura anche questo ha preso un 5 euro circa era in offerta anche lui portato da home movies sublime un green house non lo so che cosa aspettarmi non lo so perché io ho un altro film sempre di questo questo è il numero 20 mi ricordo che il numero c'ho un altro film sempre di questi di sta collana qua mi pare uno o due nella mia collezione qualcuno l'ho comprato pure quest'anno che vi ho fatto vedere anche il video e mi sono me lo so visto anche con salvuccio ci abbiamo fatto la recensione allora sta camera della tortura un film di Andy Milligan dal maestro del loro psicotronico un'incredibile orgia di terrore addirittura versione integrale da HD Master Susan Cassidy Jeremy Brooks e Neil Flanagan in la camera della tortura 4 terzi ma porca puttana mannaggia la miseria durata 77 minuti audio italiano paese USA anno 1970 rigorosamente in versione integrale ma qua c'è il simbolo che è horror dipendenza scusatemi non pensavo che collabora ma io anch'io voglio collaborare con qualcuno ma chiamatemi anche a me perché ma io voglio il mio simbolo di Terror House chiamatemi allora c'è c'è una youtuber che penso tutti quanti tutti quanti la conoscerete che porta recensioni unboxing più recensioni diciamo non tanto su youtube da come ho capito che lo dice pure lei ma me lo voglio leggere qua la drama nell'ingheterra anzi no non me lo voglio leggere non voglio spoilare perdonatemi ok prima di grinta ho salita di presentarvi per la prima volta in tv in italia tutti restaurati in hd 5 bizzarri film del prolifico Andy Milligan leggendario regista americano di horror exploitation in bilico tra Herschel Gordon Lewis e Hedwood bah stiamo a vedere un po' come se non è un merda spero di no ci hanno selezionato ci abbiamo selezionato tutti i film voi dica che hanno selezionato bene io lo spero e niente ragazzuoli e ragazzuole questi sono i film che mi sono recuperato penso che ci farò uno screen non lo so una foto ma penso di no perché poi nessuno si vedrebbe il video e quindi non ve le potrò far vedere io come se mi invito a lasciare mi piace a commentare fatemi sapere la vostra se apprezzate questi tipologi di video ma lo so che vi piacciono un botto se siete vi hanno incuriosito uno di questi film se li comprerete o non li comprerete non verifica niente se li avete visti se sono film validi da vedere quale piacerebbe che io faccia la recensione per primo io ci ma ne previsco questo nei commenti scrivete ragazzi io vi leggo sempre può capitare che mi sfugge qualche commento che non vi rispondo ma lo sapete che io sono sempre presente e a me piace risponde mi piace sono che cacchio l'apertà fa a parte tante persone youtube lo aprono per altri scopi sì anch'io spero che diventa un lavoro vero che ci posso guadagnare e campare veramente però anche da me è tutto partito state zitto un attimo dai sto facendo il video c'è l'uccellino che rompe il cazzo adesso e smettila vai da un'altra parte niente mentre faccio i video devono andare gli uccellini a rompermi la minchia dicevo sapete che mi fa piacere qualsiasi cosa io vi rispondo penso aver detto tutto noi ci vediamo come sempre un prossimo video video lasciate un mi piace condividete i video fate tutto quello che potete fare per spingere questi video ragazzi perché è l'unico modo per farmi capire che apprezzate io posso investirci più tempo e anche soldi a comprare altri film prossimamente se trovo perché sapete che io amo tantissimo i film anni 80 lo sapete chi mi conosce vede tutti i miei video mi segue da tanto tempo lo sa io ho una grande passione per gli anni 80 e tanti di voi che mi seguono anche voi avete questa passione ci vediamo al prossimo video ciao ciao